Buonasera e benvenuti in questa nuova serie. Finalmente ritornano i gameplay su Pokémon in questo canale. E già perché le primissime serie di questo canale erano quasi tutte sui Pokémon, se ben ricordate. C'era anche una serie sulla Pixelmon in Minecraft e dopo anni di assenza, ecco che ritorno con una Akrom, dato che la maggior parte delle ROM che feci all'epoca furono Akrom, in particolare feci Pokémon Glaze, e Pokémon Ash Grey per quanto riguarda l'Akrom. E oggi torno con una Akrom che sembra fantastica dalle premesse, ovvero si propone di rendere giocabile tutta l'avventura di Ash in varie regioni, complese le Orange Island. Quindi partiremo da canto, andremo poi alle Orange Island, immagino poi a Yoto, a Owen e così via. Se non sbaglio si arriva fino alla settima generazione. Tutte le mosse, tutte le abilità sono aggiornate alla settima generazione, questa Akrom. Ci sono tutti i Pokémon, ci sono le mosse Z, ci sono le mega evoluzioni, c'è tutto. Io direi quindi, senza ulteriori indugi, di iniziare questa serie, questa guida anche in italiano, a Pokémon Fire Ash. Iniziamo. Andiamo a dare un'occhiata alle opzioni. Mettiamo ovviamente testo veloce. Questo va più che bene. Screen size. La mantengo L perché mettendola full si aveva un tearing assurdo dello schermo che rendeva il gioco ingiocabile. Andiamo quindi a giocare un nuovo gioco. Il gioco è in inglese e non si trova in italiano, quindi ve lo tradurrò in tempo reale. Ciao, scusa per averti fatto aspettare. Benvenuto nel mondo dei Pokémon. Il mio nome è Professor Oak. Le persone mi chiamano Professor Pokémon. Se ti serve aiuto, posso certamente dartelo. In questo caso, no. Grazie. Ho già messo a posto i comandi, ho già dato un'occhiata all'avventura. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Le persone Pokémon vivono insieme e si supportano l'un l'altro. Alcuni giocano con i Pokémon, altri li fanno combattere. But we don't know everything about Pokémon yet, ovvero non sappiamo ancora tutto a posto dei Pokémon. Ci sono ancora molti misteri da risolvere. Ecco perché io studio Pokémon tutti i giorni. Sei un ragazzo o una ragazza? Siamo un ragazzo. E qual era il tuo nome? La leggendaria... La leggendaria... Qua però io vorrei poter usare la tastiera, ma non posso. Quindi userò le frecce. Dicevo la leggendaria memoria del professor Oak. Andiamo poi con... Le lettere piccole. E mettiamoci Glacial. Io nel frattempo vi ricordo subito di lasciare un mi piace per questa nuova serie. Di commentare, facciarmi sapere cosa ne pensate di questo gioco, se la conoscevate come a Chrome. E di iscrivervi al canale per non prendervi i prossimi caricamenti. Glacial? No, Glacial. Ma che cacchio, gioco? Tutto bene? Mi aveva cancellato una lettera? Ecco fatto. Oh, no, vai qua. Ok. Quindi si è Glacial? Sì. Il tuo viaggio, Pokémon, è ancora da essere scritto. La tua storia, Pokémon, è ancora da essere scritta. Affronterai molte sfide dure. Un mondo pieno di sogni e di avventure con i Pokémon ti aspetta. Andiamo. Come vedete, la introduzione è molto classica. Qui non possiamo interagire con praticamente niente. Siamo Ash in pigiama, effettivamente. Possiamo andare però a recuperare la leggendaria pozione che c'è sempre qui. Ok, exit. Turn off. Ok, dovrò rimettere meglio il comando X. Perfetto, scendiamo. Tra l'altro qui vi faccio vedere che questi sono una lista di tutti i tuoi traguardi, però per adesso è vuota. Perché effettivamente non abbiamo fatto nulla. Salve madre! Glacial, sei in ritardo! Sbrigati ad andare dal Professor Oak! Effettivamente, come vi ricordate, era l'anime. Ash era in ritardo. Noi non possiamo andare fuori. E appunto, non andate. Ci sono i Pokémon selvatici là fuori. Pokémon selvatici che potremmo uccidere con un calcio, ma ti serve il Pokémon per proteggerti, ecco. Questa era una battuta che fece il leggendario Johnny Nicor, che ormai non fa più video su Pokémon. Ciao Glacial! Gary ha già lasciato il laboratorio da due ore. Sbrigati, oddio! Gary quindi è già al laboratorio, giustamente. Esplodiamo un po' Biancavilla prima. Ti senti lento? Premi il pulsante F. Premendolo non cambia niente, quindi non so. Cosa si riferisca a quel tipo. Mi sono chiuso fuori di casa ancora. Beh, se è un pollo. Ecco, interessante che in quest'Akron le porte sono effettivamente chiuse. Non possiamo entrare a caso nelle case della gente. Ed ecco lì Gary. Prima però andiamo a parlare un attimo a questo tipo. Il Professor Oak si concentra su Pokémon e sulle relazioni umane nelle sue ricerche. C'è nelle relazioni tra i Pokémon e gli umane nelle sue ricerche. Così Glacial ti sei svegliato in ritardo. Che perdente! È un peccato, perché ho finito per prendere io il Pokémon migliore. È utile avere il nonno negli affari, vero? Ci beccheremo dopo, Glacial. Ok, Gary con la sua leggendaria simpatia che va qui e sparisce. Perché non c'è più. Può saltare queste recensioni. Perfetto. A questo punto andiamo però, prima di andare nella portata del Professor Oak, qui troviamo una pozione. Ed ora andiamo. Il Professor Oak è l'esperto mondiale dei Pokémon. Ok. Qui possiamo curarci. Andiamo al piano superiore. Eccolo, Professor Oak. Glacial, sei in ritardo. Tutti i Pokémon Starter sono già stati presi. Beh, ne è rimasto uno. Ma è un po' rischioso. Si riferisce ovviamente a Pikachu. Il topo elettrico. Ok, volume al massimo per questo incredibile ottenimento di Pikachu. Oh, sembra che Pikachu non piaccia stare nella sua Pokéball. Non dimenticarti di prendere il tuo Pokédex prima di andartene. Esattamente. Quindi prendiamo le 5 Pokéball. E il Pokédex. Prendiamo anche Pikachu. Altri betti rimane qui. Pikachu ha iniziato a seguirti. Guardate sulla spalla, che bellino. Guardalo lì. Qui dietro c'è il giardino del Professor Oak. Però io sono andato a cercare Pokémon questa erba alta. Ma non spona niente. Quindi mi sa che è solo qui per bellezza. Anche nel resto del giardino non ho trovato nulla. Quindi non mi metterò nemmeno ad esplorarlo. Anche perché non ho ancora le scarpe da corsa. Ci metterei solo tantissimo tempo. Quindi andiamo direttamente fuori dal laboratorio del Professor Oak. Abbiamo due pozioni. Abbiamo Pikachu. Ed ora possiamo anche passare a casa di Gary. Per parlare con sua sorella. E prendere la mappa città. Diamo un'occhiata alla mappa città. Da qui ci siamo. Bag. Town map. Eccola qui. Come vedete è diversa rispetto all'accanto normale. Cioè è simile. Battle Tower tra l'altro qui c'è. Ma leggermente diversa. Battle Pyramid. Monteruna. Battle Factory. Battle Arena. Eh c'è un po' di roba eh. Battle Dome. Tra l'altro qui non ci fa vedere appunto quale città sia. Perché mi sa che non ci siamo ancora arrivati. Ok. Chiudiamola. Come si chiude sta roba. Ecco fatto. Ed ora andiamo direttamente da nostra madre. Eccola qui fuori. Com'è andata Glacial? Ah sembra che tu abbia avuto un amorevole Pikachu. Sarà un viaggio fantastico. Lo posso sicuramente dire. Eri così di fretta che non ho avuto il tempo di darti queste prima. Assicurati di usarle. Appunto ci dà le scarpe da corsa. Con le quali. Grazie alle quali possiamo finalmente correre in giro. Bene. Adentriamoci fuori da Biancavilla. Al percorso 1. E direi che per questo video. Per questa prima parte. È tutto. Grazie per aver seguito il video. Ti ricordo di mettere un mi piace al video se ti è piaciuto. Di commentare. E di iscriverti al canale. Per non perderti i prossimi caricamenti. Da Rush al Spear. E da Ash e Pikachu. È tutto. Al prossimo video. Con Pokémon Fire Ash.